adesso arriva il tuo figlio stiamo aspettando la lincea arriva arriva sta arrivando questi dovrebbero essere bravo 27 53 il secondo 75 il terzo vai caspita ma quello va forte 113 11 al 44 me lo ricordo bravo questo è quello dell'unato lo conosce si è giovane è giovane bravi bravi fai veloce fai veloce fai veloce fai veloce fai veloce fai veloce c'è qua calori civicelli non l'ho visto 4-5 amici vai va quella porta mia c'è anche un mortino vai vai porca mola va 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 le Sì quando c'è il sole si sta bene ma è caldo e dice non va bene alti e bassi, alle ore ad andare al mare se non fa caldo. Cos'è che deve fare caldo? Adesso andavano... Adesso questi lo erano giù. Prendono in torri a si e poi scendono giù. Adesso vanno subendo giù. In torri a si perché arriva la 5 e il 3. Inoltre 20 minuti ci sentironi anche la ristata e la ristata. Inoltre la terra andavano giù di qui poi ritornano sulla piazza. Inoltre la terra andavano giù. Inoltre la terra andavano giù. C'è la prevenzione dalle potenti centico. Un del sole c'è la周 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Cinque dentro. Sono i primi del cinque. Vai Luca, su. E che cosa ti fanno a fare? Muotiti, su, dai. Vai. Non c'è solo cinque, Luca, dai. Ci siamo, ci siamo. Bravo. Tu è fatto, dai Mario. Hai fatto la logica? Cinque. E vedi, cinque minuti veloci. Oh, troppo veloci. Ma qua. Solo tre sono arrivati. Sono i cavalli. Ci si trova con la limpa. Ma poi è arrivato al sessantesimo. Vai. Vai. Ma vai da malati. Ma c'è lì, ah? Hai visto? Era la prima tappa. È un giro del Marisano. Ferrer Tiso è arrivato al sessantesimo, ancora. Ha girato la te, ci ha fatto cinque. Sì, vabbè. È un giro di Italia, ieri ha dato una botta, la cosa, lì, eh. È rossa dentro. Dai, brava. Brava. Bravissima. È arrivata bene, oh? Eh sì. È la prima ragazza. Vai. Vai. c'è qualcuno dopo quattro mesi ah c'è? eh passate qui era il sesto settimo era il punto dei primi era un po' indietro ma erano le primi l'hanno messo sotto in allenamento ah quello la che ha vinto quello che ha vinto l'anno scorso avevo visto la forza è già bravo che è venuto però correva mica mai l'ho visto ma il Dario il Dario l'ho visto un po' affaticato però anche lui anche lui è corso martedì è corso venerdì è passato in giro SACHA vai vai dai 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 bravo anche Paolo c'è 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 anche Paolo vai dai 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 complimenti bravo ciao perca bestia agenzia Toro si ah c'è qua anche questo qua ehi ci sei sempre va bene va bene va bene dai vai tranquillo figa almeno ce l'ho fatto ahahah bravo dai cammira sei dietro come fai dai muoiti con gli occhiali dal sole ahahah facciamo i numeri differenti bravi forza vai col 62 vai vabbè, quelli scarsi della 5 devono entrare qua ciao belli bravo bravo passeggiata ehi, ciao Loris vieni, vieni, vieni vieni, vieni hai fatto anche la selezione è certo dai dai, hai l'ultimo chilometro di corsa dai! 500 metri da casa di sua madre quindi la selezione ci passa davanti per andare al lavoro c'è la Lisa Filicuri dai dai, fai vedere che corri qua dai che sei primo, dai, bravo gira dentro bravo bravissimo, dai, bravo c'è la Lisa Filicuri come direttrice dell'asilo non è tipice no, c'è il marito no, lei è direttrice dell'asilo lì ah Lisa, allora tutto a posto io debio debio destra e sinistra stavi meglio se andai a fare una camminata no, no, l'ho già fatta dai Bruno vai 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 ciao, grazie di qua, non stavi qui vieni bravo, ciao dai dai dai, dai 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 5 km di qua vai dai oh se puoi fare anche 10 eh, fa niente brava Dali vai rosso rosso di qui brava ho preso largo volevo fare un altro giro no, non è questa una d'abitudine, è questa che mi stupa ti stupa? con la strada si, ho preso i boschi, la speranza non ho pensato perché mi hai fatto troppo non ho pensato quando io vorrei un bici vai, 103 rossa di qua rossa di qui vai vai brava io non lo faccio posso tagliarla no, la nera no, devi fare un altro giro un altro giro rossa di qui eh l'ambulanza, mandatemela dietro bravo adesso dovrebbe arrivare bravo eh sì, 33 minuti, adesso prima della 10 è qua ah, 40 anche meno anche 30 se vedessi quello là ancora è arrivato di qua guarda che iniziamo rossa di qua bravi cinque di qua bravi finito finito ok bravo 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 oh Dario Dario vai dritto no, no giù di qua giù di qua bravi dai 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 fai l'ultimo scatto brava dai dai è il primo l'impostore sta arrivando camminando morto a 10 dritta vai mi dispiace mi dispiace dai che sei arrivato bravo bravo dai dai fai lo scatto finale questo qui è arrivato eh è sempre lui cheers guardalo, guardalo non ha neanche il sudore che gli scende ma chi è il 10 mela? il primo ma è già finito? sì wow vai entra eh bravo bravissimo dai bravo 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 Dante grazie 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 bravo ma sai che velocità con gli occhiani per andare in G sui Rai ma esatto 35 35 km 35 km una bella media altri 10 o 35 km io neanche se lo faccio un km è il secondo che sta arrivando e vuoi fare un altro giro ahahahah è rosso no non è Gnazza si è Gnazza si è Gnazza Gnazza un altro giro arrivi dai Gnazza Gnazza deve sudare dai Gnazza un altro giro si faccio dai Gnazza sei la vergogna sei Gnazza prossima lo metti in Moncler dai sei la vergogna sei bravo gira dentro eh Gnazza ma chi lo batti Gnazza dai 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 pregalo Gnazza guardalo Gnazza bravi dai bravo bravissimo ehi numero 2 bravo il secondo dai bravo 87 65 rossa dai Sophie dai Sophie stacca il papà fai l'ultimo scatto su allora vorrei mica arrivare assieme al papà sei la vergogna corri bravo Simo dentro eh terzo bravo terzo di qua eh quello l'ha tagliato di là sbagliato di qua ma non avventurino fa niente dai dai eh bravi dai 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 il quinto bravo il quinto 44 bravo eh sì nonostante la coduta esatto un altro avrebbe mollato lui no eh perché sono quelli che non hanno fatto il giro hanno iniziato adesso il primo giro hanno iniziato la parte del secondo giro adesso quelli il primo aveva una gamba ragazzi dai Inter bravo bravo dai bravo Stai bravo Stai bravissimo dai bravo Tutti quelli sotto i 40 sono forti Non ce n'è di cazzo Quaranta minuti, non i 40 anni Questa mi sa che devono fare un altro giro così ad occhio Eh non lo so Ancora il primo? Eh sì, dai dai Vai 5 dentro Brava 10 finiti Bravo, ciao, bello Bravo, perti, sei forte Grazie Buon bel Buon bel Buon bel di qua di qua alla 5 di qui e suggerisci a tua figlia come arriva per meno rimane sul gonfiabile la mamma, dentro eh, dai Sara, dai Sara, camminino vai vai ma quale è più, troppo alto? ho giocato 10 euro sulla rice Giulia, scontami gli ostacoli si saltano da qua in bagno e le tutti che si prendono dentro cadono se tu salti da la in qua non cadono tra i bagno hai capito? Così era l'unica cosa che c'era da me eh, ma eh, mi sono proprio tutti i bambini ah, matta oh, vai, salta la minchia ma va ssh ecco, ostimo presente fiamile, faccelo vedere ssh ssh vai bravo una foto insieme ce la fai certo bravo 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 vai comunicazione per chi desidera assaggiare il risotto del chef Moreno dalle 11 in poi si potrà buon appetito ma smettila che ti sia passata la media tieni 9.18 10.18 bravo sì vai bravo bravo però il passaggio in ballo vai 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 va vai va Grazie a tutti. 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 Vai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bye. Bye. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 vai e vai 99 e la e 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 vai eccolo vai e 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 bravi bravi e 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 ok e vai 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 e 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 wow e 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 ok e 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